Classifica delle nostre novità dell'arte della settimana. Al terzo posto questo dipinto del XIX secolo, Olio su tela, rappresenta un paesaggio marino con in primo piano pescatori e rovine sullo sfondo. Al secondo posto questo acrilico e olio su tela di concetto Pozzati della serie Album di famiglia, il pittore rappresenta sé con i figli assieme a un gallo. E al primo posto questa stampa multiplo di Mimmo Rotella, firmata dall'artista, ha anche il timbro a secco della fondazione. L'autore per realizzare quest'opera ha incollato una sopra l'altra due serigrafie. In questo caso ha scelto una locandina cinematografica con attori molto famosi come Marilyn Monroe.